Ben trovati, apriamo questo telegiornale con la notizia che ormai ha avuto una cassa di risonanza nazionale metà comune timbrava il cartellino e poi andava a fare shopping 46 dipendenti di Palazzo San Francesco sono stati smascherati dalla finanza di Sulmona che ha diffuso anche un video di quello che accadeva appunto nelle stanze del comune di Sulmona con i dipendenti che timbravano e andavano via, vediamo si allontanavano senza alcuna giustificazione dal posto di lavoro subito dopo aver registrato la loro presenza mediante il badge erano soliti assentarsi per recarsi presso la propria abitazione per consumare il pasto, sbrigare faccende personali e trascorrere parte del tempo al bar, fare shopping o fare la spesa 46 dipendenti del comune di Sulmona sono stati smascherati dalle indagini della guardia di finanza che hanno consentito di rilevare in un arco temporale di circa 7 mesi gravi irregolarità commesse circa le assenze ingiustificate dal posto di lavoro alle 46 persone vengono contestate varie ipotesi di reato come truffa aggravata, false attestazioni, certificazioni nell'utilizzo del badge da parte dei dipendenti pubblici le indagini delle fiamme gialle hanno riscontrato che la metà dei dipendenti comunali 46 su 102 si assentavano dal posto di lavoro in modo prolungato, ingiustificato più volte al giorno altre volte con la complicità del collega presente in ufficio ovvero con la connivenza di altro personale esterno al comune registravano fraudulentemente l'inizio e la fine del servizio pur essendo assenti consentendo loro di raggiungere in netto ritardo l'ufficio e di allontanarsi nel largo anticipo alcuni dipendenti hanno prodotto comunicazioni per iscritto verbalmente attestando falsamente la presenza in servizio ovvero di inizio e fine servizio hanno fruito di buoni pasto di cui non avevano diritto le indagini condotte anche grazie a una minuziosa attività di videoregistrazione effettuata con telecamere installate nel perimetro di alcune sedi di servizio comunali supportate da ulteriori attività di riscontro quali analisi dei tracciati dei cartellini magnetici pedinamenti, appostamenti e osservazione dei soggetti interessati addirittura in qualche caso ad alcuni dei soggetti allontanatisi dal posto di lavoro ingiustificatamente è stata controllata la regolare emissione degli scontrini fiscali a seguito degli acquisti fatti assentandosi dal posto di lavoro le risultanze investigative sono state successivamente poste in correlazione con i turni riportati nei prospetti mensili di ciascun dipendente e acquisite presso il comune Questo è quello che purtroppo avveniva al comune di Sulmona adesso proseguiamo con la cronaca perché domani il TAR deciderà sul ricorso presentato dall'avvocato Elisabetta Bianchi in merito alle elezioni di giugno E' attesa per domani l'udienza del TAR che si pronuncerà sul ricorso presentato dall'avvocato Sulmonese Elisabetta Bianchi a proposito delle ultime consultazioni comunali del 5 e 19 giugno candidato sindaco di Forza Italia a primo turno la Bianchi scelse la strada dell'apparentamento formale con Bruno Di Masci candidato sindaco della coalizione civica la città che vogliamo l'accordo fu suggerato in municipio il 13 giugno l'indomani del primo turno delle scorse amministrative che già aveva delineato lo scenario del successo di Anna Maria Casini oggi sindaco di Sulmona nell'ipotetica composizione del Consiglio Comunale l'esponente di Forza Italia avrebbe ottenuto un seggio se l'opposizione che in maggioranza il colpo di scena arrivò il 22 giugno a Palazzo San Francesco nel momento della proclamazione degli eletti quando la commissione mandamentale proclamò nelle fila di Forza Italia il giovane Alessandro De Gennaro il più votato della lista a primo turno una decisione che colse entrambi Bianchi e De Gennaro di sorpresa per la commissione l'apparentamento di Masci Forza Italia riguardava solo la lista e non il candidato sindaco da allora la Bianchi intraprese subito il percorso giuridico amministrativo mentre De Gennaro si è accomodato sull'iscanne di Palazzo San Francesco la decisione del TAR potrebbe confermare quella della commissione lasciando il posto di consigliere comunale al giovane De Gennaro che nel primo consiglio dell'era Casini ai microfoni di onda di Gisi dichiarò la bandiera del partito in secondo luogo il tribunale potrebbe sconfessare quella famosa decisione con l'ingresso di Elisabetta Bianchi in consiglio per il momento c'è solo da aspettare è questione di ore Un appuntamento molto importante per numerosi comuni abruzzesi che si incontreranno a Sulmona giovedì 27 ottobre alle 16.30 nella sede della comunità montana Peligna per affrontare le problematiche sulla gestione autonoma del servizio idrico integrato alla luce dell'introduzione delle recenti norme di legge l'iniziativa dell'incontro è stata presa dai comuni di Anversa degli Abruzzi e Fano Adriano in provincia di Teramo e vede coinvolte le amministrazioni comunali delle quattro province abruzzesi che gestiscono autonomamente il servizio idrico sono previsti gli interventi di Gianfilippo Mignogna sindaco di Bicari in provincia di Foggia e membro del direttivo dell'associazione nazionale Piccoli Comuni Giovanni Ruggeri segretario del gas gestione autonoma del servizio idrico dei comuni della Sardegna e Marzia Caredda direttrice della Enersud esperta degli adempimenti della AEGSI autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico si tratta, si legge in una nota del comune di Anversa di una preziosa occasione per approfondire questo delicato tema e per confrontarsi anche con altre regioni sulle eventuali iniziative da intraprendere cure vietate per oltre un anno è stato riaccolto nella struttura riabilitativa il disabile sulmonese torniamo così ad occuparci di questo caso il servizio e di Andrea D'Aurea il sogno diventa realtà per un disabile sulmonese di 68 anni che dopo un anno e mezzo di dure battaglie è stato riaccolto nel centro semiresidenziale San Francesco un passaggio dovuto dopo la rinuncia al giudizio dell'asla Vezzano Sulmona l'Aquila provvedimento notificato la struttura riabilitativa la storia comincia più di un anno fa quando il disabile sulmonese dovette cessare la riabilitazione poiché rientrò nei cosiddetti fuori setting coloro che secondo la ASL non avrebbero diritto alla riabilitazione non potendo migliorare nella loro disabilità uno spiraglio di luce si aprì il 24 aprile 2015 quando il tribunale di Sulmona diede ragione all'uomo condannando la ASL a pagare le spese e all'immediato reintegro ma la mara sorpresa arrivò di lì a poco quando la ASL negò l'autorizzazione per la ripresa delle cure riabilitative non molti giorni fa l'azienda sanitaria ha rinunciato al giudizio arrivando sostanzialmente un'intesa con il tribunale per i diritti del malato che attraverso la responsabile dell'area legale Katia Puglielli ha preso in carico il caso del disabile di Sulmona finalmente nei giorni scorsi l'uomo è stato accolto nella struttura e può riprendere la sua riabilitazione ha fatto sapere con soddisfazione l'avvocato Puglielli la vicenda del disabile sulmonese è una sorta di apripista sul territorio regionale non poche le persone che hanno subito la stessa sorte solo nel 2014 ad Avezzano si registrarono 25 casi quale futuro a Sulmona per il corso di scienze infermieristiche il corso andrà nella sede di sviluppo Italia le rassicurazioni arrivano dal direttore generale della ASL Rinaldo Tordera sentiamo si svolgeranno nella sede di sviluppo Italia le videoconferenze per gli studenti del corso di scienze infermieristiche sulmona la scelta della location è ancora ad ufficializzare messa in annuncia dalla direttore generale della ASL Avezzano su Monalacuila Rinaldo Tordera a margine di un convegno dedicato alla prevenzione sismica svoltosi sabato scorso nel capologo Peligno il problema si era posto dopo la chiusura da parte della ASL della sala convegni nella lavecchia del nosocomio poco sicura la rassicurazione che tutto si sarebbe risolto nel giro di poco tempo arrivò lo scorso giovedì direttamente dal sindaco di Sulmona Maria Cassini a proposito di era vecchia da sgomberare è stato lo stesso Tordera nell'ultime ore ad annunciare il ritardo sull'arrivo dei container dove saranno allocati i reparti e servizi del nosocomio le procedure per indire la gara sono in corso ma il tempo dei due mesi stimato dall'azienda sanitaria non sarà rispettato la buona notizia arriva sul cantiere del nuovo nosocomio dove prosegue la costruzione del primo rotto una cena di beneficenza in favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia è in programma Torre dei Passeri per sabato 29 ottobre presso il bocciodromo comunale a partire dalle 19 e 30 l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di concerto con la Croce Rossa italiana comitato di Cepagatti e volontari di Torre dei Passeri prevede la preparazione di due piatti simbolo della cucina del centro Italia la pasta alla matriciana e la pasta alla gricia che saranno realizzati con la collaborazione dell'associazione italiana cuochi della provincia di Pescara mentre le materie prime saranno messe a disposizione dalle imprese locali l'intero ricavato sarà versato sul conto corrente dedicato all'emergenza dell'Italian Red Cross Croce Rossa italiana con soli 6 euro si potrà gustare un piatto di amatriciana o gricia trascorrere una serata in compagnia con intrattenimento musicale ed attività per bambini e dare così un piccolo ma significativo contributo alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma sarà presente anche l'amministrazione comunale di Accumoli con un delegato del sindaco Stefano Petrucci Sulmona e Serravalle stringono un patto di amicizia una delegazione del comune di Sulmona si trova in questo momento nella Repubblica di San Marino il servizio è di Andrea D'Aurelio mettere nero su bianco e tradurre in atti concreti l'interscambio culturale e la collaborazione fra il comune di Sulmona e Serravalle castello più popoloso e vasto della Repubblica di San Marino e quanto è venuto fuori nel corso del vertice istituzionale fra il sindaco di Sulmona Maria Casini e il capitano di Serravalle Vittorio Brigliadori un'amicizia quella fra Sulmona e Serravalle nata sotto il rullo di tamburi e lo squilo di Chiarine il primo incontro in effetti ci fu la scorsa estate nel corso della giostra cavaleresca d'Europa per dar seguito alla strada intraprese il sindaco Casini accompagnato dalle albergatori della zona e della condotta per linea di Slow Food si è legata in quel di Serravalle per gettare le basi di un vero e proprio scambio culturale siamo qui per definire gli oggetti concreti di questo percorso dal momento che ci sono importanti opportunità per entrambi i territori ha esordito Casini a SMTV San Marino emittente locale in futuro sarà una delegazione della Repubblica di San Marino ricambiare la visita lo storico sulmonese Fabio Maiorano va in cerca dei caduti dimenticati presto sarà pubblicata la nuova ricerca sentiamo restituire giustizia storica ai caduti delle guerre questo è il senso della nuova ricerca compiuta dallo storico Fabio Valerio Maiorano che vuole mantenere vivo ricordo di tutti i sulmonesi che sono operati sul fronte nel primo e nel secondo conflitto mondiale uno studio meticoloso e capillare che ha visto Maiorano accedere documenti d'archivio e fascicoli delle pensioni di guerra per rimettere ordine la ricerca ha dimostrato che almeno 75 caduti iscritti nell'elenco del Ministero della Difesa non risultano tali nel monumento di Piazza Carlo Tresca come del resto nelle croci del Parco della Rimembranza e nei elenchi ufficiali i monumenti caduti dalle croci che sono nel Parco della Rimembranza mi sono accorto che ci sono tantissime cose che non funzionano nel senso che mancano all'appello moltissimi caduti e molti di quelli che sono registrati purtroppo lo sono con degli errori managrafici o di riferimento al grado e all'appartenenza ai corpi militari approfitto per lanciare un appello ai congiunti dei caduti perché coloro che avessero foto e materiale dell'epoca possono metterlo a disposizione per completare il quadro storico e ricordare tutti coloro che hanno difeso la patria spiega Maiorano recapiti utili 347 38 55724 il telefono fabiovalerio.majorano chiocciolagmail.com l'email è un fatto soprattutto di memoria dei sulmonesi caduti in guerra e per quanto riguarda i congiunti dei parenti che potrebbero trovare ovviamente memoria nella collettività adesso lo sport ci occupiamo di rugby perché nel campionato di serie C domenica vittoria casalinga del Sulmona Rugby 1967 che travolge il Tortoreto per 30 a 12 la mischia di casa l'ha fatta la padroni arrivando persino a conquistare una meta tecnica da una mischia chiusa nel secondo tempo in una partita sudata e coinvolgente il Sulmona si è dimostrato vivo ora più che mai la gara verrà trasmessa dalla nostra emittente giovedì a partire dalle 21 e 30 il campionato riprenderà domenica 6 novembre con la trasferta marchigiana a Falconara e adesso il calcio perché il martedì ci occupiamo delle categorie minori nel girone C di prima categoria il Sant'Anna battendo il Manopello per 3 a 0 allunga il distacco sulla seconda in classifica Cugnoli che non è andato oltre il 2 a 2 contro il Cepagatti il Popoli vince 3 a 1 a Bussi contro lo Zamariola e guadagna la seconda posizione occupata insieme a Scafa e Valle Aterno Fossa al ridosso delle prime 5 si trova la Virtus Pratola che domenica ha pareggiato 1 a 1 a Giuliano Teatino nel girone A di seconda categoria si riscatta il Pacentro dopo la battuta ad arresto del turno precedente i pacentrani hanno interrotto la marcia trionfale del Genzano vincendo per 3 a 0 il Pacentro raggiunge in classifica proprio gli Aquilani a 9 punti posizionandosi a ridosso delle prime 2 Montereale e San Francesco pari casalingo della Moronese contro il San Francesco per 0 a 0 gli Aquilani ottengono il pari dopo 3 vittorie mentre la Moronese è riuscita a conquistare un punto importante dopo la Batosta contro il Genzano la squadra delle frazioni si trova in sesta posizione a 4 punti insieme a Forconi a Pitinum e Scoppito ci attesa ora per il derby tra Pacentro e Moronese in programma domenica prossima al comunale di Pacentro e il Pacentro si proietta al derby di domenica forte del 3 a 0 ottenuto contro il Genzano vediamo tutto nel servizio di Antonio Casasanta pronto riscatto da parte del Pacentro che batte a domicilio il Genzano e torna alla vittoria la formazione di Pelini dunque con una prestazione scintillante ed esaltante è riuscita a battere una delle tre capoliste il Pacentro si presentava in campo senza Edoardo Cuccurullo che aveva problemi fisici mentre regolarmente in campo era Fabrizio Voro la coppia d'attacco insieme a Voro era Luigi Santilli la gara subito parte nei primi minuti non ci sono grossi sussulti le due squadre si studi al decimo minuto c'è subito la prima occasione da gol da parte del Pacentro con un colpo di testa dopo un angolo da parte di Antonio Cucuri colpo di testa di Luigi Santilli la palla di poco alta insiste la formazione Pacentrale ancora con Luigi Santilli che in aria in girata manca di poco a lato al diciassettesimo Luigi Santilli ancora protagonista 5 minuti più tardi e sblocca il risultato dopo un ottimo servizio in aria da parte di Vuolo la conclusione ravvicinata di Santilli due passi il portiere di Carlo riesce a neutralizzare ma non può far nulla e la palla viene depositata in rete per il vantaggio del Pacentro si scuote il Genzano cerca di uscire dal proprio guscio al ventiseiesimo va vicino al pareggio con una conclusione di Tartaglia risponde subito il Pacentro al ventottesimo c'è un'ottima azione da parte della formazione Pacentrana con Gialò il tiro però è debole dopo un ottimo servizio da parte di Santilli la conclusione è parata dal portiere di Carlo il Genzano ovviamente non ci sta e quindi con il giocatore di colore Mbaier va vicino al pareggio con una conclusione che termina di poco alta tutto qui un primo tempo sicuramente dove il Pacentro ha ben giocato meritando il vantaggio di ben altro tenore la ripresa con il Pacentro che ha letteralmente dominato il confronto concedendo veramente poco o nulla al Genzano già al primo minuto c'è una punizione dal limite di Antonio Cucurullo e la parata del portiere di Carlo al quinto c'è un ottimo contropiede da parte del Pacentro con un'ottima ripartenza orchestrata da Antonio Cucurullo che serve vuolo che si sovrappone sulla fascia destra al centro per Santilli poi Santilli viene anticipato dal difensore e quindi l'azione sfuma al ventunesimo ancora il Pacentro va vicinissimo al raddoppio azione isolata di Di Roberto che penetra a percussione in aria tutto solo la conclusione la parata di piede di Di Carlo ma il gol del raddoppio è nell'aria arriva al ventitresimo con un vuolo dopo un lancio da parte di Antonio Cucurullo c'è un'indecisione tra il portiere Di Carlo e Damiano vuolo ne approfitta con la punta del piede deposita il rete pubblico di Pacentro in delirio e 2 a 0 per la formazione Pacentrana a questo punto il Genzano scompare dal campo praticamente e la formazione Pacentrana ha buon gioco e al trentaseiesimo cala il tris su un cross di Eduardo Cucurullo entrato in campo Damiano nel tentativo di liberare su vuolo anticipa il proprio portiere tra il più classico delle autoreti e chiude i conti per il 3 a 0 un Pacentro dunque che legittima la vittoria al 44esimo con il tiro di La Lama dunque Pacentro che ha dominato si è prontamente riscattato dopo lo scivolone di domenica scorsa e domenica prossima altro impegno casalingo contro la Moronese per continuare la corsa ai vertici della classifica Moronese e San Francesco hanno dato vita ad un incontro molto combattuto senza però riuscire a segnare è finita 0 a 0 ma si nutrono forti dubbi per un rigore apparso netto non concesso ai locali vediamo Moronese e San Francesco confermano le proprie qualità dando vita ad un confronto molto combattuto alla fine arriva un punto ad entrambe utile a muovere la classifica che ha messo in evidenza sia una reazione degna di nota dei padroni di casa dopo la pesante sconfitta nel turno precedente che il buon momento di forma degli Aquilani messi bene in campo dall'esperto Marco Proia negli ospiti out il bomber Luca Esposito mandato in panchina per un infortunio così come Damiani che accusa un problema fisico qualche minuto prima del match e cede il posto a quinque Pelini e Aquilani si danno battaglia sin dalle prime fasi del confronto diretto dal fischietto marsicano Antonio Ippoliti di Avezzano al terzo prova a mettersi in evidenza il bomber liberatore con una punizione respinta dall'estremo difensore dei Ullis con palla poi spedita in corner dal San Francesco tutte e due cercano di attaccare con i padroni di casa che chiudono bene gli spazi agli Aquilani ed in due circostanze riescono a proporsi con lanci lunghi di Rosato che si concludono al settimo con un tocco al limite dell'area di Incanni nel tentativo di superare dei Ullis e alla mezz'ora con un sinistro di liberatore finito di poco a lato nell'ultimo quarto d'ora la Moronese subisce un leggero calo ed il San Francesco prova a prendere il sopravvento al trentaseiesimo si sviluppa un'azione con palla che arriva dentro l'area per la conclusione di Gregori terminata alta la squadra delle frazioni si salva anche al quarantesimo quando Ippoliti prova il tiro dentro l'area con palla che termina di pochissimo fuori nella ripressa si verifica un episodio dubbio nell'area del San Francesco quando al tredicesimo liberatore riceve palla si gira e prova a calciare con il giocatore ospite esposito che commette un fallo di mano inutili le proteste dei padroni di casa perché Ippoliti di Avezzano non segnala nulla la Moronese prova a fare la differenza sempre con liberatore al quindicesimo con un colpo di testa parato da De Iullis qualche istante dopo Pezzullo serve sul filo del fuorigioco liberatore ma la sua conclusione trova l'ottima opposizione dell'estremo difensore ospite al diciottesimo una punizione del nuovo entrato Martinelli trova pronto il portiere dei locali Torre che para negli ultimi 25 minuti la Moronese prova il tutto per tutto al ventunesimo un sinistro da fuori area del solito liberatore non sorprende per poco De Iullis con palla di poco a lato dopo il terzo cambio il tecnico Nando Restai non sposta di Cristoforo nell'inedito ruolo di attaccante per creare maggiore incisività negli ultimi minuti liberatore dentro l'area spedisce alto ed in pieno recupero Gian Lorenzo su punizione manda di poco fuori finisce 0 a 0 con il San Francesco che resta nelle sfere alte della classifica ma al primo posto resta solo il Monte Reale in virtù nella vittoria contro la San Gregoriese alla Moronese va il merito di aver dato il massimo in una gara che fa rimanere forti i dubbi sul rigore non concesso nella ripresa l'intera gara sarà trasmessa dalla nostra emittente questa sera a partire dalle ore 21 nel girone B di seconda categoria pari casalingo del Bugnara contro la capolista Procelano per 0 a 0 risultato importante se si considera che il Bugnara è sceso in capo con una formazione rimaneggiata protagonista il portiere dei Bugnaresi Andrea Lattanzio capace di respingere lo stesso rigore per ben due volte la Procelano comanda la classifica con 10 punti il Bugnara con il punto ottenuto sale a quota 4 chiudiamo anche la pagina sportiva adesso è giunto il momento della nostra rubrica buon appetito grazie a tutti la ricetta che vi proponiamo oggi è quella di sagne e fagioli ecco gli ingredienti che vi occorrono 300 g di fagioli secchi 300 g di pasta all'uovo aglio prezzemolo sedano pomodoro maturo olio d'oliva sale e pepe passiamo ora alla preparazione lessate i fagioli con aglio odoretti che piacciono un pomodoro spezzettato e olio fino passate a setaccio una parte di fagioli e unitevi la pasta tagliata a pezzi irregolari lessata a parte riportate a bollore nel tegame e unite i fagioli interi aggiungete sale pepe di fresca macinatura ed olio accompagnate il vostro piatto con un buon bicchiere di vino montepulciano o cerasuolo buon appetito puoi trovare le ricette della rubrica buon appetito sul sito www.ondatv.tv e sul nostro canale youtube www.ondatv.tv e torniamo alla notizia che ha aperto il nostro telegiornale dalla truffa aggravata alle false attestazioni sono i reati per cui dopo sette mesi di indagini coordinate e dirette dal sostituto procuratore di Sulmona Stefano Iafolla la guardia di finanza del capologo Peligno ha indagato numerosi dipendenti comunali che si allontanavano dal posto di lavoro in alcuni casi anche più volte al giorno senza giustificazione in altri subito dopo aver registrato la loro presenza come documenta questo video che è stato realizzato appunto dalla guardia di finanza minuziosa l'attività di videoregistrazione appunto fatta anche con telecamere installate nel perimetro di alcune sedi di servizio comunale in qualche caso ad alcuni di dipendenti che si sono allontanati dal posto di lavoro in maniera ingiustificata per lo shopping è stata controllata la regolare emissione degli scontrini fiscali per gli acquisti fatti della vicenda è stata interessata anche la procura regionale della Corte dei Conti dell'Aquila per il recupero dei compensi percepiti in modo illecito vediamo qui alcuni dipendenti entrare addirittura con il casco uno addirittura è entrato con l'ombrello oltre all'attività di videoregistrazione per le indagini la Guardia di Finanza ha usato anche l'analisi dei tracciati dei cartellini magnetici pedinamenti appostamenti ed osservazione dei dipendenti interessati ha così scoperto che durante quelle assenze ingiustificate dal posto di lavoro magari subito dopo aver registrato la presenza qualcuno andava a casa per consumare il pasto oppure sbrigare le faccende personali altri facevano la spesa o lo shopping e qualcuno raggiungeva il bar e dunque in alcuni casi secondo le indagini della Guardia di Finanza con la complicità del collega presente in ufficio con la connivenza di altro personale esterno al comune registravano l'inizio o la fine del servizio pur essendo assenti raggiungendo poi in netto ritardo l'ufficio oppure allontanandosene in largo anticipo tra il personale indagato c'era chi infine attestava per iscritto o verbalmente intanto possiamo tornare in studio dicevamo tra il personale indagato c'era chi attestava per iscritto o verbalmente di non aver timbrato ma di essere comunque presente al lavoro oppure chi fruiva di buoni pasto non spettanti queste altre immagini sempre del video diffuso dalla guardia di finanza di Sulmona che attestava appunto quello che succedeva purtroppo al comune di Sulmona altri aggiornamenti nel corso dell'edizione di questa sera delle ore 20 non ci sono dunque altri aggiornamenti da dare e possiamo quasi concludere questa edizione del giorno prima ci sono i film in programmazione la multisala Igiolanda di Corfinio Inferno alle 18.20 e 21.10 Pets Vita d'animali alle 18 i babysitter alle 18 e alle 21.10 è tutto grazie dalla cortesa attenzione ci salutiamo con il meteo buona giornata a tutti voi sulla nostra regione condizioni generali di cielo poco nuvoloso parzialmente nuvoloso sulle zone interne alto collinari e montuose mentre lungo i litorali e sulle zone collinari prossime alla costa saranno presenti banchi di nebbia che potrebbero dar luogo ad occasionali piovigini nuvolosità in aumento a partire dalla notte e nella mattinata di domani temperature generalmente stazionarie o in ulteriore lieve aumento sulle zone collinari interne e montuose venti deboli orientali lungo la fascia costiera occidentali o sud occidentali altrove mare generalmente quasi calmo poco mosso attra 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 attra